Grazie a tutti. I quadri di Veronica Finucci, questi qua, in dettaglio, lo faccio vedere per bene, in dettaglio, sono questi qua. E questi i quadri di Marco Garbin, come vi ho detto prima. Quindi amici visitatori di Telebabu TV, vi invitiamo a visitare questa mostra, qui al Circo di Cortona, accanto al Teatro Signorelli, fino a 13 di questo mese. I quadri di Garbin, come potete vedere. Questo video potete trovarlo sulla nostra pagina Facebook, Telebabu TV, anche Telebabu Web. In questo modo salutiamo i due artisti Marco Garbin e Veronica Finucci e vi invitiamo a seguirli anche sulle loro pagine Facebook. Andiamo a seguire questi due artisti che meritano e se volete anche contattarli, anche voi per una mostra e per esporre. Saluto al prossimo video, seguiteci sempre, un saluto così da parte di Telebabu TV. Vendo attenti ai due artisti che rispondono qui, Marco Garbin e Veronica Finucci. Saluto da parte di Telebabu TV. Ciao, al prossimo video. Un abbraccio, seguiteci sempre, mettete un like alla nostra pagina Facebook, Telebabu TV o anche Telebabu Web. Grazie. Ai prossimi video, vi lascio in compagnia dei video di Telebabu TV. Ciao.